Cambiamo decisamente argomento, illustrata questa mattina l'offerta formativa per il prossimo anno accademico dell'Ateneo Cagliaritano, le iscrizioni apriranno il 16 luglio. Vediamo. 81 corsi di lauree aumentano gli immatricolati di quasi il 10% sulle lauree triennale e del 25% su quelle magistrali. Sono i numeri dell'Università di Cagliari in vista dell'anno accademico 2019-2020, presentato questa mattina durante la conferenza stampa in retorato dal prorettore vicario Francesco Mola, assente la rettrice Maria Del Zombo per una indisposizione. Abbiamo un nuovo corso di laurea magistrale in scienze motorie che va a colmare una situazione di gap che avevamo rispetto al fatto che i nostri laureati di triennale dovevano poi andare fuori regione. Abbiamo l'aumento dei corsi di studio in double degree, cioè il meccanismo secondo cui c'è il doppio titolo italiano e straniero. E abbiamo il consolidamento di altri corsi di studio magistrali con la parte di internazionalizzazione. L'Università è stato spiegato a supporto del diritto allo studio con oltre 27 milioni di euro, tasse fra le più basse d'Italia, ed estensione degli esoni ripari al 47% degli iscritti. Nel prossimo anno accademico saranno inoltre attivi nei corsi di studio 5 percorsi di doppio titolo. L'obiettivo è quello di accrescere la dimensione internazionale dell'Ateneo, la sua attrattività. Io dico sempre che la cosa importante è lavorare sui trend, cioè studiare i trend e analizzare se stessi, le classifiche, i posizionamenti. Servono principalmente perché chi poi prende decisioni deve riflettere e quindi deve anche avere l'abilità a applicare strategie di breve, media e lungo periodo per guardare avanti. Per il 2019-2020 tutti gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico dovranno partecipare al test di valutazione di competenza della lingua inglese.